Buongiorno, oggi è martedì 27 aprile, benvenuti al consueto nostro appuntamento quotidiano con l'edicola Rassegna Stampa per vedere che cosa scrivono quest'oggi i quotidiani e iniziamo come al solito con il Corriere della Sera, il cui riferimento nella pagina iniziale è riferito all'appello di Draghi. In gioco l'Italia, il premier alla Camera sul recovery, no a visioni di parte, piano da 248 miliardi, aiuti per i giovani, tensioni nella maggioranza sul coprifuoco, perché sappiamo ci sono delle prese di posizione anche diverse tra i vari partiti che compongono la maggioranza, Conte Letta contro Salvini, riaperti ristoranti e cinema, il ritorno nelle sale. E qui c'è una fotografia emblematica che possiamo considerare in fondo come l'inizio della ripresa, vale a dire le sale cinematografiche che piano piano, con i dovuti accorgimenti, tornano ad essere frequentate. USA e Cina, gli incerti equilibri e il commento di Angelo Panebianco alla luce della presidenza Biden, vale a dire vengono compiute una serie di riflessioni dal punto di vista di politica internazionale e anche di relazioni internazionali su quelli che potranno essere gli sviluppi nei rapporti tra i due paesi. Allerta per la variante indiana, in Veneto i primi due casi, ci sono dei casi di positività in Veneto che sembrano essere ricollegati alla variante indiana, finora poco conosciuta e poi ci sono anche riferimenti allo sport e all'andamento del campionato e più in generale alle prospettive anche del calcio. La Repubblica, Draghi, ricostruiamo l'Italia, il Premier presenta alla Camera il piano da 248 miliardi, se prevarranno visioni di parte non ci sarà più tempo, questo è quanto ha affermato il Presidente del Consiglio. Il Ministro Giovannini, con le riforme attiriamo altri investimenti dall'estero, ci sono anche riferimenti e fotografie che testimoniano questo primo giorno di quasi libertà, città in base dai tavolini all'aperto. Questa fotografia è inconfondibile, visti i porticati, si riferisce alla situazione di Bologna. Poi PD, le primarie, il bene minore, il commento di Michele Serra facendo riferimento all'attuale situazione politica all'interno del PD e più in generale il giudizio di Stefano Folli fa riferimento alla sfida a scacchi con i partiti, vale a dire il punto sulla quale situazione politica nazionale prendendo riferimento alla situazione che si è venuta a determinare e ai rapporti di forza creati da questa circostanza, da questa emergenza che stiamo vivendo. La nazione, Draghi, ho fiducia nel mio popolo, il premier presenta il piano per la ripresa, cita De Gasperi e parla di spirito repubblicano, stupidità e corruzione, afferma, non prevarranno. Biden bocciato all'esame dei 100 giorni, americani insoddisfatti, perlomeno questo è il primo giudizio che così la nazione riporta qui nel suo articolo di spalla e poi ci sono riferimenti anche alle notizie di cronaca locale, a cena alle 19, così lunedì della ripartenza, Rebus Tavolini tensione in Piazza Grande e poi Cannabis in ambulanza De Benedetto davanti al GIP. Ecco la pagina di Cronaca di Arezzo, la tavola è calda in Piazza Grande, un titolo in verità piuttosto originale per descrivere anche in fondo quella che è la circostanza che si è venuta a determinare alla luce delle riaperture, tensione tra due ristoratori per le apparecchiature esterne, intervengono i vigili ma ci sono subito clienti e forse questo, anzi non forse, è sicuramente l'aspetto che più interessa i singoli operatori. Coprifuoco a cena alle 19 perché questi cambiamenti avranno delle ripercussioni forse anche sulle nostre stesse abitudini, perlomeno temporaneamente. Vediamo all'interno, pronti via, già le prime cene dalle 19 in poi, riaperti i costanti, bar, tazzine, sì ma fuori. Il primo squarcio di apertura dopo lo stop vede decine di locali e blocchi ai blocchi di partenza. Via più timido a pranzo, più deciso invece a cena, sciolto il Rebus del caffè, alcuni locali presi di assalto. E poi gli altri titoli che si ricollegano un po' a questa situazione in generale che si è venuta a creare, Piazza Grande, Transia, Movida e Rebus Tavoli, sale la tensione tra ristoratori chiamati i vigili. Ovviamente si fa anche il punto sul stato attuale dei contagi e dei vaccini, vaccini altro stop, uve fermi fino a venerdì, si domanda il quotidiano. La Verna, tutti i frati isolati, chiude discount. E a questo proposito vediamo un po' quello che è il punto dei contagi nel nostro territorio. Dopo il clamore del dato domenicale si torna sui livelli tutto sommato del periodo. Non si abbassa la pressione al San Donato e purtroppo si segnala un'altra persona deceduta. Sono 70 positivi in provincia di Rezzo alle 14 di oggi. Dopo la domenica dello shock si torna sui livelli propri del periodo anche se la pressione al San Donato non diminuisce. Non è un caso che in terapia intensiva siano 19 le persone ricoverate mentre ammonta 92 la cifra dei ricoverati in bulla Covid. In provincia di Rezzo sono stati 497 i tamponi eseguiti mentre sono 1658 le persone positive a carico, 1281 sono a domicilio. Purtroppo c'è un decesso, una donna di 85 anni ci ha lasciato in giornata. Il dato scorporato vede sempre il capoluogo con il maggior numero di positivi, 28 tutte minime le altre rilevazioni che confermono come la crescita sia in netta controtendenza. Nota parte i due di chiusi della Verna sono sempre legati al focolaio del santuario. Tra le nuove varianti scoperte negli ultimi quattro giorni attestata la presenza di tre brasiliane nel retino. Qualche notizia, finiti gli ultraottantenni, la ASL riversa tutte le sue energie per vaccinare i vulnerabili. Il vaccino è Pfizer o Moderna. E ancora, il Covid è riuscito come detto a entrare all'interno del santuario francescano della Verna facendo esplodere un vero e proprio focolaio. La situazione è comunque sotto controllo. Hanno riaperto i ristoranti con il servizio al tavolo, non tutti hanno lo spazio evidentemente per allestire all'esterno. Ci sono state varie reazioni. Il Cinema Eden riparte il prossimo fine settimana. Per la multisala occorre attendere il prossimo 15 maggio. Torniamo alla lettura della Nazione. Walter in ambulanza all'appuntamento col GIP, con lui deputati e politici, sit-in in 18 città. Questo è un caso che come detto ha fatto molto discutere l'opinione pubblica. Cannabis a uso terapeutico. Supergruppo della moda in alleanza con Marzotto. Sono movimenti importanti nell'economia. Z a catene Galvanica Formelli, aziende da decine di milioni di fatturato, entrano in ambria. Lavoro. La segretaria Cis Lorusso traccia quelli che possono essere i futuri scenari. Qualche altra notizia, oltre agli inserti della Nazione, tra cui quello dei cronisti in classe e il campionato di giornalismo che sta avendo da anni ormai un grande successo. Dal Valdarno, sgominata la gang dei furti di auto di lusso, sono tre persone, tutte residenti nel Basso Lazio, tra Aprilia e Cisterna di Latina, che sono stati scoperti grazie anche all'intervento dei carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. Talia sarà sottoposta a un'altra operazione, il caso della bambina di Terra Nuova che dovrà andare di nuovo sotto i ferri in attesa dell'intervento negli Stati Uniti. La mamma afferma che i tempi sono piuttosto lunghi. Lockdown tedesco del chitarrista, siamo a Castiglion Fiorentino, in Germania blindato a casa da un anno per il Covid, la storia di Giacomo Ghezzi raccontata qui al quotidiano. Commercianti, arrivano le misure anticrisi, qui siamo a San Sepolcro e poi per quanto riguarda il Casentino, Destination Casentino, la promozione online, un nuovo sito di proposte sulla rete, creazione e gestione delle esperienze. Promozione del brand è nato dall'idea di due giovani, il primo marketplace, quindi ci sono dei giovani che si ingegnano, come è giusto che sia, per dare anche delle soluzioni a problemi che in fondo poi riguardano tutti. Abbiamo visto alcune notizie, ne diamo un'altra. La procura di Siena, in merito all'inchiesta sull'incidente nel quale lo scorso 19 giugno è rimasto gravemente ferito Alex Zanardi a Pienza, ha chiesto al GIP l'archiviazione dell'accusa di lesioni colpose nei confronti dell'unico indagato, l'autista del camion, contro cui andò a scontrarsi il campione. La famiglia si oppone a questa archiviazione. Vediamo il prossimo servizio firmato di questa edizione della nostra rassegna stampa. L'amministrazione sta individuando nuove sedi di voto alternative alle scuole, ci si riferisce appunto alle elezioni e in questo servizio vediamo quali sono i primi spostamenti. In un futuro prossimo probabilmente non ci riecheremo più a votare nelle scuole. Il progetto in più tappe dell'amministrazione comunale che segue all'input del Ministero degli Interni è quello di individuare delle sedi alternative e già molte ne sono state individuate. Non troveremo più le urne appoggiate sui banchi, i disegni attaccati nei corridoi, ma soprattutto ragazze e ragazzi non rimarranno più a casa nei giorni delle elezioni, quindi della preparazione e degli scrutini. Il territorio del comune di Arezzo è ripartito in 97 sezioni elettorali dislocate in 37 plessi, 84 sezioni sono dislocate in 28 plessi scolastici. La caccia a nuovi sedi è iniziata e la prima fase si concluderà a breve, ad esempio la sezione 58 dalla scuola elementare di Pratantico si sposterà al centro sportivo sempre di Pratantico, la sezione 84 che conta 775 elettori dalla scuola elementare di Palazzo del Pero al centro di aggregazione sociale sempre di Palazzo del Pero. Le sezioni 59 e 60 in tutto 2013 elettori dalla scuola di indicatore al campo sportivo sempre di indicatore. Le sezioni 61 e 88 ben 1874 elettori dalla scuola elementare di San Giuliano al centro di aggregazione sociale di Ruscello. Le sezioni 6, 7, 8, 9 in questo caso 3490 elettori dalla scuola elementare Gamurrini ai locali dell'Università di Siena nell'area dell'ex caserma Cadorna. Queste saranno solo le prime, nei prossimi mesi si aggiungeranno altre sedi alternative tra le quali molti centri di aggregazione sociale ed ex circoscrizioni. Sono ancora molte le sezioni per le quali ancora non sono state trovate nuove sedi e la caccia da parte dell'ufficio elettorale è ancora aperta. Ricordiamo gli appuntamenti in programma sulla nostra emittente, stamani mattina le 10 spunti e spuntini, poi stasera dopo il Tg 9 e 10 e quindi ben gode con Alex Revelli stasera e Susanna Cutini. Qualche altra informazione, Confartigianato e Comune di Arezzo siglano accordo per fare ripartire la mobilità in taxi. Over 65, disabili, studenti e casse integrati potranno ritirare voucher di sconto tramite il sito del Comune di Arezzo. Torniamo alla lettura dei giornali, vediamo il Corriere di Arezzo. è battaglia su scontrino e coprifuoco, questo è il titolo di apertura. Le associazioni al ristorante fino alle 22, ma la linea soft della Polizia Municipale cozza un po' con le rigidità del governo. Riaperture tra emozioni e mugugni, questo è lo stato d'animo che ha accompagnato molti ristoratori. Poi notizie dall'Europa, azione legale dell'Unione Europea contro AstraZeneca. Dalla Toscana, rincari delle materie prime, ripresa a rischio, soprattutto nel settore del legno. E cronaca di Arezzo, sorrisi, dubbi e mugugni, ripresina per caffè e locali. Questa è un po' l'apertura. Scontrino, coprifuoco e multe, è battaglia, confesercenti fino alle 22 al ristorante. Confcommercio, il nostro obiettivo è posticiparlo alle 24, così si evitano possibili assembramenti. Poi la vicenda del contagio all'interno del santuario francescano della Verna. Noi frati contagiati al santuario ci prendiamo cura l'uno dell'altro. Questa, in fondo, è una dimostrazione anche di altruismo e solidarietà. Venerdì torna la maxi isola pedonale, il centro sarà chiuso alle auto, ci sarà più spazio per permettere ai locali di utilizzare gli spazi esterni, un provvedimento che in questo momento acquista, assume anche una valenza e un significato più ampio. Provocò scontro mortale, perizia, non è imputabile, colpo di sonno patologico, parere medico legale a sorpresa sull'automobilista che invase la corsia opposta a Ristradella. Ricorderete l'incidente nel quale perse la vita una giovane, nello schianto morì una 29enne, fra l'altro una ragazza anche molto impegnata nell'ambito del volontariato. Il comune ha tolto gli olivi agli anziani, qui siamo ancora ad Arezzo, la protesta, la segnalazione viene da Romizzi. Trovati i ladri delle auto di lusso, disattivavano il GPS per sparire, questa operazione è piuttosto complessa che ha interessato anche altre regioni del centro Italia. Danni a frutteti, viti e apicoltura, clic dopo il gelo per gli aiuti, è una presa di posizione della CIA questa, formalizzare le domande sul sito della regione. E ancora mezzo milione per ridurre il rischio idraulico a Pocaia, il sindaco ora i lavori, il comune quindi è quello di Monterchi, il sindaco Alfredo Romanelli puntualizza la situazione. Zanardi chiesta l'archiviazione per l'autista del camion. Da Bibiena, riaperture, Valerio, 87 anni, primo cliente, ha prenotato già domenica al ristorante, un ristorante della Vallata, il titolare afferma che ha pranzato con il giubbotto, questo 87enne, primo cliente, dobbiamo dire a questo punto anche un cliente affezionato, ci pare di capire, ripartono anche in Casentino i ristoratori, da noi affermano non è facile soprattutto cenare all'aperto. Qualche altra notizia è lo sport, perché l'Arezzo pensa già al prossimo impegno di campionato, che sarà quello decisivo a Cesena, le combinazioni per i play-out, l'unica soluzione per evitare la forbice e i risultati delle altre è quella di battere il Cesena, ma non sarà facile, anche se il Cesena ha già ottenuto gli obiettivi che si era prefisso in avvio di stagione. L'Amenesba per la pallacanestro si sblocca, batte Poggi Bonzi e cancella lo zero in classifica e quindi è destinata a terminare nel modo migliore questa stagione davvero tutta particolare. Bene, abbiamo concluso questa edizione dell'edicola Rassegna Stampa. Grazie quindi a tutti della cortesa attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.